Ciao Alberto, cosa fai qui a Gatteo oggi? Guarda, ho una casa da vendere qui a Gatteo che stiamo facendo l'allestimento e abbiamo un problema, secondo me tu sei in grado di aiutarmi stiamo mettendo a posto un po' di mobili e ci servirebbe un televisore per far vedere gli spazi, i volumi della casa, hai qualcosa per me? Ok, sì, potrei darti un Ultra HD, un LED, ma a pensarci bene ho il prodotto adatto per te a vedere questo, fantastico, è la soluzione giusta Mi amor è flaco e fiel, non c'è frontera, si no maldad Il rio fluye, non c'è solo sta, non c'è solo sta Il rio fluye, non c'è solo sta, non c'è solo sta Il rio fluye, non c'è solo sta, non c'è solo sta, non c'è solo sta Mi amor è flaco e fiel, non c'è frontera, si no maldad Mi amor è flaco e fiel, non c'è frontera, si no maldad Il rio fluye